buongiorno a tutti oggi vi propongo questa bellissima porzione di bifamiliare a sant'egidio ancora allo stato grezzo e quindi da personalizzare a vostro piacimento è una costruzione del 2008 con spazi veramente importanti e situato in una zona invidiabile vicino a parchi che la circondano entriamo passando dal vortico nella zona giorno da poter sfruttare come soggiorno con angolo cottura o con la possibilità di avere una cucina ed un salone troviamo poi il primo bagno uscendo dalla porta finestra della cucina ci troviamo in una zona esterna pavimentata da poter sfruttare nella bella stagione e che si affaccia sul parco retrostante dando l'impressione di essere circondati dal verde salendo le scale ci troviamo al piano notte con due splendide camere da letto entrambe con terrazzo ed il secondo bagno facendo poi ancora due rampe di scale ci troviamo nel sottotetto da poter utilizzare come studio o di eventuale terza cameretta scendendo nel semitterrato abbiamo poi la possibilità di ricavare una stupenda tavernetta per le serate invernali una lavanderia con un terzo bagno ed un ampio garage che potrà ospitare fino a tre auto se cerchi la casa della tua vita da poter completare con tutto quello che hai sempre desiderato chiama per fissare una visita vitali immobiliare tutta un'altra agenzia grazie a tutti